105 Night Express, come ogni sera da lunedì al venerdì sempre con noi, Alessandro Sansone e Rebecca Staffelli. Ciao socio! Ciao Rebecca, buonasera amici, ben trovati a Radio 105, su Radio 105 se ci ascoltate dalla radio, sulla 66 del Digitale Terrestre se ci seguite attraverso la televisione. Bentornati in autunno! Beh, da voi forse! Qui bentornati proprio in autunno pieno, ottobre-novembre. Da noi è arrivata ufficialmente l'estate qui a Roma, ragazzi, è una temperatura meravigliosa. Oggi sono uscita con le ciabattine, per farvi capire, sono il sandaletto. In costume, se vedete una in costume in giro per il centro di Roma, salutate da quella di Rebecca Staffelli, ragazzi. Bella, abbronzata, con i capelli alla spagnola. È vero, sì, oggi sì. Ehi, com'è che era la fattura del ciclone? Buonasera a tutti, spagnoli e nonna! Spagnoli e nonna! Buonasera a tutti! Bravo, piripì, bravo, piripì! Cogliamo l'occasione per salutare il buon Mattia Grisau. Ciao, piripì! Se lo ricorda bene, ciao, Matti! Ovvio che me lo ricordo, buonasera, perché era Tosca d'Aquino, napoletana, ovviamente. Esatto. Spagnoli e nonna! Esatto. Sento un po' di raffreddore, eh! No, 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 è per imitare Tosca d'Aquino. Eh, proprio così, vabbè. Perché invece il raffreddore proprio non ce l'ha e ha il naso più libero.